La valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del nostro territorio passa attraverso un'adeguata narrazione. Con queste parole il presidente della Fondazione Tercas, Tiziana Di Sante, ha presentato due importanti progetti rivolti alla valorizzazione di straordinari beni culturali del nostro territorio. Palazzo Melatino a Teramo, sede della Fondazione Tercas e Atri Sotterranea. Narrare Palazzo Melatino con sei borse di studio che vedranno sei studenti della Facoltà di Scienze della Comunicazione coadiuvare i loro docenti nella realizzazione di un volume sulla storia di Palazzo Melatino e della fondazione che appunto lo ha restituito alla città e Atri Ipogea, un progetto nato col sostegno della Fondazione Tercas ispirato a Napoli, Ipogea, un esempio virtuoso che da tempo ormai conosciamo e che va proprio nella direzione di raccontare la vita segreta di Atri ma non soltanto segreta perché appunto Ipogea è quindi sottoterra ma anche perché è fatta di vissuti, di storie, di persone ad un'utenza che appunto riscoprirà questo aspetto poco conosciuto della città. Nel borgo di Atri si svolgerà domenica 20 novembre il convegno divulgativo dal titolo Il Patrimonio Ipogeo, veicolo di scoperta e valorizzazione dei territori Atri Sotterranea incontra Napoli Sotterranea evento che si terrà ad ingresso libero nel teatro comunale di Atri Parteciperanno alcuni degli animatori del progetto Napoli Ipogea in uno scambio di buone prassi Non dimentichiamo mai infatti che le fondazioni sono chiamate a sperimentare sul territorio nuove modalità di promozione e a implementare gli esempi di successo Questa è una delle iniziative forse più legate alla nostra mission Dobbiamo aprire nuove strade, lo abbiamo fatto col percorso multisensoriale dedicato agli povedenti a Palazzone Latino che sta riscuotendo un grande successo lo facciamo ora attraverso questo convegno Non possiamo intervenire in tutte le situazioni ma possiamo proporre un metodo di lavoro una visione riguardo al futuro del nostro territorio che può aiutare molti altri ad agire in linea con queste nostre indicazioni